Circa un anno fa una coppia di sposi che si sarebbero sposate a Cortona appunto quest'anno ci hanno chiesto di dargli una mano per organizzare un progetto di rimboschimento in quanto volevano compensare in parte la CO2 che avrebbero emesso nell'occasione del loro matrimonio con tanti invitati dall'estero. E' questo il regalo alla terra cortonese di Iris e Benne Coppia che ha scelto proprio Cortona per il giorno più bello e ha deciso così di rendere omaggio a questo territorio. Lei lussemburghese e lui della Nuova Zelanda cioè lontani da 27.000 km hanno voluto sposarsi qua e hanno detto facciamo qualcosa per la natura, per l'ambiente e facciamo venire i nostri amici in questo posto meraviglioso che è Cortona e abbiamo un'iniziativa che coinvolge un po' tutti. 50 gli alberi donati dai neosposi al territorio cortonese. Abbiamo aderito a questa splendida iniziativa che è un modo diverso ma forse ancora più importante di dare un contributo attivo a quello che è la cura dell'ambiente, insomma la causa ambientalista. Gli alberi sono stati messi a dimora nella zona di Monte Castel Giudeo nella montagna cortonese. La scelta non è stata casuale, si tratta di un'aria devastata da una tempesta di vento che nel 2016 aveva distrutto la vegetazione. Il tempo ha fatto danni nella montagna ma se siamo tutti in rete possiamo recuperare gli stessi. Questo ha un significato appunto di piantare nuove piante ma soprattutto di stare vicino alla natura, vicino al nostro paradiso che è il verde e quindi che è la nostra montagna cortonese. Le nuove piante rientrano nel progetto del Ministero per la Transizione Ecologica e del Gruppo Carabinieri della Biodiversità, un albero per il futuro. Ogni piantina è georiferenziata quindi fa parte di un progetto della florestale e anche questo credo che sia un aspetto molto importante.